Articolo 1 è impegnato nella riflessione delle tematiche più interessanti per la sinistra italiana. Quali sono gli argomenti all'ordine del giorno? Sì, noi proprio il 27, venerdì 27, ci occuperemo di questo. Promuoveremo un convegno alla Spezia con la partecipazione di Andrea Orlando e Roberto Speranza che tratterà dei problemi e della crisi della sinistra. A partire dagli interrogativi legati alla sconfitta elettorale e in vista del nuovo congresso del Partito Democratico. L'impressione che si ha è che per certi versi si rischi di ridurre il confronto congressuale a un confronto tra mere proposte di leadership, slegato dalla chiara individuazione di linee politiche alternative. Ebbene, il convegno cercherà proprio di approfondire i limiti e le caratteristiche dell'impianto che il Partito Democratico fin qui ha avuto e si sforzerà di indicare quali sono i temi e gli assi programmatici fondamentali attraverso i quali cercare di recuperare quel rapporto tra sinistra e ceti popolari e mondo del lavoro che anche le ultime elezioni ci hanno testimoniato come ormai interrotto. Dove si svolgerà questo incontro? Si svolgerà nei locali dell'Urban Center dalle 15.30 in poi il giorno venerdì 27. In quell'occasione si susseguiranno interventi sia del mondo politico di esponenti del Partito Democratico sia della società civile e di diverse sensibilità a sinistra.